Buongiorno, sono alle sette e un quarto del mattino e come di sovente oggi siamo su Genshin come ogni mattino e guardate questo coso, se lo apro, ah, ah, oh luminescenza alla deriva e ridato dalle cederi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste robe qua, queste 114 pull, anzi che possono pure essere di più, le userà. Le userà per cosa? Per entrambi ovviamente. Allora, questa cosa in realtà non era programmata, io stavo risparmiando per Cocomina tantissimo, anzi c'è pure nella mia bio. E in tutto questo è successo che poi ho scoperto che doveva uscire Wanderer insieme a lei. E ho detto, oh mio Dio, perché io sapevo che avrei voluto vendere un altro animo e non sapevo se poi dopo sarebbe stato o Kazua o Wanderer. Però, Kazua è molto mainstream, Wanderer è qui adesso, quindi ho detto, vabbè, prendiamo le fave, i piccioni e non lo so, i matrangoni. Quindi adesso faremo i trial e poi dopo ci dirigeremo a pullare in pace e felicità. Allora, Cocomi in realtà so, cioè nel senso ho già la completa consapevolezza di come funzioni, non c'è tanto da sapere. Anzi, dovrò solamente farmare tantissimo, questa cosa mi fa un po' venire il male perché io non sopporto il dover farmare. Portare i personaggi al 90 è proprio un stress, vabbè, comunque. Poi vabbè, c'è da dire, avete visto che io in team ho, oddio che bella l'azione, non me la ricordavo. Comunque io in team ho Utao e forse pensate, oh no, sei un mattacchione se metti Utao e Pocomi nel senso team. Sì, vabbè, però ce ne faremo una ragione, perché in realtà non penso che siano totalmente incompatibili. Poi perché non mi interessa, cioè, poi a me piace avere personaggi che mi piacciono solo per il fatto di piacermi nel team, quindi me ne farò una ragione. Anche perché comunque Utao è un personaggio che ti permette di fare, cioè, se tu vuoi buildarla, cioè, fare il team esattamente per fare solo, per farlo ottimizzato solamente per lei, devi avere un sacco di veghe, io non voglio le veghe, quindi prendiamo la bega che vogliamo noi. Bene, 3D con finito, non l'ho nemmeno usata perché, vabbè, sicuramente qui non è che ci sia bisogno tanto di curare. Soprattutto perché io voglio sostituire questa merda qua, perché non ho supporto, Cicciamia fa schifo, è scarsa, è perribile, fa schifo, è una bambina zombie, un Tao la vuole uccidere, quindi questa cosa anche che siano intimi insieme, cioè, io voglio sistemare le cose. E quindi adesso facciamo solo la prova di eternamente perduto. Vi dirò, dopo ho in programma di salvare Preghiae, perché è l'amore mio, e la voglio. Io ho bisogno di poter volare, scusate, no, questa cosa mi fa venire troppe emozioni. Cioè, a me questa cosa proprio mi causa delle cose che io non posso ignorare. Poi ho questa animazioncina qua, con questo piedino che si alza, Ragus, guardate qua. Poi già quando l'avevo usato nell'arconquest con Aida, avevo pensato, cazzo, questa roba spacca, quindi nulla, mi sa, di qua non abbiamo più dubbi. Nulla, cioè, non so se dovrà essere una scelta giusta o meno, ma come massimo, cioè, nel senso, si fa sempre tempo a decidere di aver fatto una scelta sbagliata. Insomma, dai, non facciamoci troppe problematiche di questo, Tebow. E prendiamo queste cose qua, ok. Allora, io direi, prima ovviamente pulliamo su Kokomi. Ah, 115, pooh. Che ansietta. Allora. Ok, questa è viola. Contate capiti, sono tipo bassissimissimissimo, non penso di averne quasi nulla. Qua schippiamo, perché sinceramente non ci interessano. Wow, quante spaline. Scusate, giusto per curiosità, il pity mio dovrebbe essere, tipo, zee. Ah, che ansietta che mi sta mettendo questa cosa qua. Oh. Ok, niente, scontato. Cioè, come dovrebbe essere, nel senso, non mi aspetto... Oddio. Ah, ok. Forse non devo schippare così tanto, però... Oddio, per vedere Farusa del Rosario a uscire, non so se davvero mi interessi, quindi va bene così. Ok. Va bene, qua non c'è ancora niente. Xingqiu, costellazione. Non lo uso da quando praticamente ho finito Inazuma, però... Cioè, Inazuma, Ljube, però va bene lo stesso. Allora. No, che palle. Ho un'ansietta assurda. Oddio, Yanfei. Le Yanfei è stata la mia prima main, le ho volute tanto bene, allora vabbè. Io vorrei tanto... Ok. I'm so dumb. Non so perché non ho aspettato l'animazione. Sono un po' scemo. Perché ho fatto schiacciato, ma io non dovevo schiacciare. Però vabbè, ce l'abbiamo. Quindi... Yeah! Poteva essere molto più emozionante e carina questa cosa. Vabbè, la sacerdotessa divina nell'isola di Watatsumi. E mi va. Questa cosa è stata così inaspettata. Adesso senza pensarci neanche, guarda, andiamo qua. Ok. Sto schippando troppo. Forse non è la scelta più giusta da fare. Però ci interessa veramente? Forse no. Shangling, oddio, che cosa strana. Madonna, mi sto sentendo male, perché io queste robe per averle ci ho messo proprio tanto. Un arco esotico. Non mi servirà mai? Forse. Sì, infatti riduce gli attacchi caricati. L'unico personaggio con l'arco che ho è Ganyu. Ganyu usa solamente gli attacchi caricati, quindi non so... Qua... Non abbiamo nulla di nuovo. Farusan. Farusan avremo una costellazione altissima adesso. No, dai. Vagabondo. Oè! Non per... Allora, ho un'ansietta dentro. Ho un momento di ansietta. Forse anche più di uno. Madonna, cazzo. Mi stanno mettendo ansia, cosa sono sti cosi? Togliete. Dov'è? Et voilà! Vorremmo dire una cosa tipo... Tipo merci, ma non so perché. Mi stai sfruttando merci. Ehi! Yuhu! Ok. Oggi... Oh, questa pool, comunque due viola. E... Non ho perso il 50-50. A me questa roba sembra un bijou di quelli che... Chef kiss. Vediamo. Yanfei ha la costellazione a sbloccare. L'avessi avuta un po' di tempo fa se è stato più felice, ma... Mi... C... C4? Allora... Eh... Ma siamo crazy. Poi la costellazione di Xinchu. Oddio. Poi abbiamo... Farusan, da quanto pare, ma... Farusan ha appena fatto la sua story. Questo non è... Nulla di che... Rosaria mi fa schifissimo. Sta suara. Però, vabbè. Ce la facciamo andare bene. C4, Rosaria. Poi abbiamo Cave. Un po' così. È uscito. Cave non mi piace per niente come personaggio. Non ho ancora fatto la sua story questo, però. Xiangling, che so che è un'altra pyro molto forte. Et voilà! La sacerdote, la sua divina! Ciao! Mi dispiace toglierla in questo momento. Però la mettiamo... Poi dopo magari vediamo. Comunque sì, si chiama Dualipaslei. Perché quando mi hanno chiesto come chiamarlo, Naida mi ha chiesto Ehi, come vuoi chiamare il vagabond? E ho fatto Dualipaslei. Evocherò la mia prima medusina. Che bello. Avrei potuto prepararmi di più? Tipo per artefatti e armi. È una cosa che... Boh, a cui penseremo. Posso volare! Sìììììì! Questa cosa mi fa sentire proprio... Proprio mi fa proprio sentire. E basta! Il video finisce qui. Dopo tutta questa incredibile emozione.